Recentemente, parlando con una cliente, è uscita fuori una frase che mi ha colpito in maniera davvero particolare. Mi ha detto, mi sono stufata di vedere tutte queste case uguali sui social e sulle riviste e vorrei qualcosa di davvero unico, di davvero personale. Questa frase mi ha colpito moltissimo per un motivo fondamentale. Mi ha fatto piacere notare una presa di coscienza in questa direzione perché credo che sia davvero importante che ogni persona viva in un ambiente ricco di stimoli mirati, nel quale possa davvero esprimere se stessa. Diciamo che questa lampadina tipo Archimede mi si è accesa tanti anni fa quando durante gli anni di università ebbi la fortuna di assistere ad una conferenza nella quale si sollevò una questione davvero molto particolare, molto interessante. Praticamente durante la progettazione di un condominio fu chiesto ad un acquirente di offrire un suo contributo per quanto riguardava il suo appartamento, ma non in merito a ciò che sarebbe accaduto poi negli interni. La richiesta mirava all'esterno. Così praticamente furono messe insieme tutte le proposte e la facciata che venne fuori fu qualcosa di davvero incredibile. Ok, non fu mai realizzato e la cosa rimase sperimentale, però io ho trovato questa cosa davvero incredibilmente stimolante e trovo che non ci sia poi niente di sbagliato nel pensare ad una facciata, alla facciata di un condominio come l'espressione dei suoi inquilini. Ok, ora non è che voglio divagare, però il senso di questo video è proprio questo, diciamo, cioè il dare valore all'unicità. Ma come facciamo a realizzare una casa che sia davvero unica? Adesso partiamo dalla scoperta dell'acqua calda. Tu sei una persona unica, però c'è un problema di fondo. Spesso non sappiamo di esserlo o ce ne dimentichiamo e stiamo lì a sfogliare le riviste, scorrere, scrollare il telefonino sperando di trovare la giusta ispirazione o sperando che dall'esterno ci arrivi quell'immagine della serie. Ah ecco, è questa la camera che ho sempre sognato. Spesso ci manca il coraggio di manifestare le nostre scelte, semplicemente perché sono un po' in controtendenza. Ecco, secondo me l'importante è prenderti un momento di riflessione, silenziare tutti gli stimoli esterni e ripartire da zero. Prova a pensare che cosa significa per te la parola casa. Non c'è una risposta che sia giusta o sbagliata, c'è solo la tua risposta in quel momento. Prendi carta e penna, lascia fluire il pensiero, chiudi gli occhi. Pensa alla parola casa e poi scrivi quello che emerge. Ripeti questa cosa più volte finché non... alla fine non ti viene in mente più in niente. Inizia a costruire intorno a questa parola la tua unicità. Lascia emergere concetti, parole, immagini senza giudizio. E così vedrai che piano piano inizieranno ad emergere quei dettagli che faranno davvero la differenza. Analizza le cose che hai scritto. Senti come risuonano dentro di te. Nel momento in cui senti le farfalle nello stomaco, lì c'è un buon punto di partenza. Ok, lo so che ti aspettavi un video con tanti fighissimi consigli su queste... sui mobili da comprare, sulla pittura di tendenza, sulla carta da parati che non si può fare a meno di avere in casa. Tengo molto a te come persona e so che la tua unicità merita di essere celebrata ogni giorno. A questo punto mi piacerebbe leggerti nei commenti e scoprire le cose che sono emerse... ti va di condividerle? E come sempre se il video ti è piaciuto lasciami un like e non dimenticare di iscriverti al canale. Se vuoi realizzare una casa che sia davvero in risonanza con te ti invito a scaricare la mia guida gratuita 5x5 e 25 segreti per realizzare la tua casa felice. Puoi farlo a questo link e noi ci vediamo al prossimo video. Namaste.